signore ci sono malvagi soldati di neve ovunque nessuno tende un'imboscata a un comandante sontariano e sopravvive consiglio un assalto frontale con scimmie laser automatiche e mine semoventi quindi se mi aiutasse a riparare il mio glorioso vascello sicuramente la scioglierò nell'acido volevo dire che non la scioglierò nell'acido forse quella ragazzino di geni dice che sembra una vecchia patata posso solo pensare che sia un complemento per questi insetti da quello che sono riuscito a determinare questa patata deve essere dotata di una vasta intelligenza e grande saggezza non non No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Ha finito, signore? Devo avvisare Madame Bastra e Jenny della battaglia in arrivo. No, no, no. No, 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 no. Patetici insetti umani, posso avere il vostro cappotto? Grazie, signore. Ah, e ora, maledetti cumuli di neve, arrendetevi alla gloria dell'impero Sontariano! Ottimo, ne abbiamo trovato un altro! No, 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 no! Grazie a tutti.